ciao raga bentornati sul mio canale youtube proseguono le top e dopo aver visto gli esterni oggi andiamo a vedere quelli che sono i migliori 10 attaccanti centravanti al momento di fifa 22 un ruolo ovviamente importantissimo mettetevi comodi e andiamo a scoprire insieme di chi si tratta sulla stessa falsa riga della top degli esterni anche per gli attaccanti vi vado ad inserire le icone ovviamente partiamo dall'icona per eccellenza non ve lo devo dire io che r9 moments è il migliore attaccante del gioco in assoluto e che non ha bisogno di presentazioni però su r9 si può fare un discorso perché ogni tanto mi chiedete vale la differenza tra r9 mid del prime ma tra un r9 mid e un cristiano toti chi vado a preferire allora su r9 va fatto appunto l'approfondimento che segue perché la versione baby non la dovete manco guardare il mid è molto forte però risente molto del gameplay visto che il suo body type diciamo che lo rende abbastanza impacciato quando il gameplay è lento quindi piuttosto che un r9 mid quando mi parlate di imbappet toti e cristiano toti io vi consiglio sempre i secondi perché risentono meno del gameplay e comunque sono giocatori che tirano avanti anche bene di rimpalli eccetera eccetera mentre r9 è uno che fa football ha bisogno della pulizia di rimuoversi calciare e fare le sue cose quindi questo il passaggio da r9 mid dal prime è doveroso proprio per risolvere questo problema perché avendo un body type differente il prime è molto più agile risente molto meno del gameplay e a quel punto facciamo un discorso simile tra il prime e il moments che è praticamente uber alles e soprattutto io ho avuto la fortuna di provare il moments in un draft e mi è sembrata veramente un'arma letale più degli altri anni perché mi sembra ancora più agile del passato quando tira è una roba che è una sentenza cioè soprattutto quando prendete il time ed verde butta a terra le porte una roba veramente clamorosa quindi lui assolutamente ancora una volta mantiene lo scettro di migliore attaccante del gioco a mani bassissime secondo giocatore che vi presento e crew if anche in questo caso la versione moments ma dalla mid in poi ne possiamo parlare perché il problema vero di questo crew if sta in quella potenza tiro che con la moments va ad 88 e quindi andiamo bene bene però con le versioni più basse di overall abbiamo una potenza tiro stile neymar quindi sull 81 82 e con un po un problema però crew if che cosa dalla sua a il 55 che per me è molto più importante rispetto al 5 sono di piede debole però magari con un 4 di skill infatti visti gli auto bloc la cpu che c'è avere la possibilità di fare la skill all'ultimo ti dà veramente una mano incredibile e questo crew if unisce tra l'altro a questo anche il 5 piede debole quindi da imprevedibilità anche quando porta palla sul sinistro in particolare io l'ho usato tantissimo il mid adesso passerò al prime a un grandissimo speed boost a un tiro della madonna anche il tiro a giro nonostante non abbia il tratto passaggi che non ve lo sto neanche a dire poi 99 di reattività 99 dribbling 90 99 di controllo palla è veramente qualcosa di incredibile crew if che se non avete provato da punta io veramente vi straconsiglio anche più di pelè che infatti non vedete in questo video vi spoilerò proprio per il fatto che presenta la quarta stella di piede debole e la quinta di skill però con quel 4 di piede debole in fase di finalizzazione fa proprio fatica secondo me finalizza molto meglio crew if dandoti la possibilità di portare palla anche sul mancino pelè è molto più carente sotto quel punto di vista al terzo posto sulla stessa scia troviamo puskas che è vero che come pelè non ha il 5 di piede debole ma solo il 5 di skill ragazzi ma questo puskas che hanno fatto prime moments che gli hanno pompato ste skill è una roba clamorosa perché si speedboost come gesù visto che ha il body type dei god ha un tiro che non lasciate proprio perdere 97 di finali di potenza e 99 di finalizzazione stra agile quindi lui è veramente una delle hidden gem di quest'anno ed è una carta nuova fresca che non si era mai visto e che mi ha veramente colpito più di tutti gli altri che al momento sono sono in giro quindi vi sento di piazzare cupuskas in questo filotto di icon passando invece i giocatori diciamo non icon ma ancora in attività cristiano ronaldo toti per me è quello sopra tutti ve ne ho parlato anche in quella che era la review dedicata rispetto al cristiano foot birthday questo qui rispetto a tutte le altre versioni ha l'effettivo aumento di velocità che si sente non sarà veloce come un bappettotio come altri attaccanti top però rispetto a un bappettotio questo c'è che col sinistro quando calcia la butta la porta a terra sempre 99 di finalizzazione 99 di potenza tiro nonostante non abbia la caratteristica anche un tiro a giro della madonna dentro l'area di ricore con i micro movimenti non è così impacciato come si potrebbe pensare per via del suo body type il problema sorge dall'equilibrio perché infatti quell'ottanta di equilibrio un pochino diciamo che lo ambiguizza a cristiano ronaldo soprattutto quando i giocatori lo vanno a pressare e lui sai si ritrova a perdere un po l'equilibrio però per il resto è veramente qualcosa di op lontano dalle versioni degli altri anni però purtroppo ci dobbiamo anche iniziare a mentalizzare sul fatto che messi ronaldo sono un po in fase calante e non so manco quanto a lungo li rivedremo nella versione toti successivamente spoilerato mappè ovviamente non può che mancare lui 5 4 per quanto riguarda skill e piede debole questo è una saetta c'è uno speed boost che lascia sei metri indietro gli avversari finalizza da dio anche se col mancino vi ripeto spesso e volentieri la trolla ma quando c'è da buttarla fuori la butta fuori r9 moments anche è molto 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 agile nonostante quello 88 di forza faccia pensare che possa essere un pochino appesantito quindi lui ovviamente va a fare da coda a cristiano ronaldo e a chiudere il reparto toti andando avanti un altro giocatore che non può mancare per chiudere diciamo la trinità e nei margioli 5 5 super agile in questo caso anche lui ha un piccolo boost di potenza tiro ma che rimane comunque bassa ha dei gran passaggi c'è quella cosa della skill all'ultimo passo c'è la possibilità di poter portare le palla anche sul sinistro disorientando gli avversari non ha anche lui il tiro a giro però in game in realtà quando si tratta di tirare da fuori di precisione lo fa molto bene quindi anche lui per me rimane in questa top 10 assolutamente di diritto come ci entra per quello che mi ha dato nella prova che ho fatto io firmino nella versione foot birthday perché 5 5 anche lui quindi c'ha la skill ha la possibilità di disorientare gli avversari con entrambi i piedi ha una grande finalizzazione a grande potenza tiro degli ottimi passaggi è molto agile nonostante il metro 81 nonostante l'ho tentato di forza un bel body type l'ho trovato molto costante in zona realizzativa anche in alcune occasioni semplici che alcuni giocatori sbagliano lui me l'ha buttata sempre dentro quindi mi sento di inserire anche bobby firmino in questa top 10 sulla stessa scia ritornando al discorso icon 4 skill e 5 di piede debole ce lo devo mettere lui perché così come metterò altri giocatori con queste caratteristiche ovviamente la pantera eusebio rimane il finalizzatore per eccellenza perché sebbene manchi quella quinta skill che lo renderebbe veramente perfetto e io mi aspettavo magari questa cosa divertente di metterlo con 5 di skill visto come hanno fatto su puscas e questo è definitivo perché quando si tratta da buttarla dentro 99 di finalizzazione 97 di potenza tiro destro sinistro tiro a giro tiro di potenza speed boost della madonna 96 di agilità 96 di reattività e paradossalmente questo sebbio non costa neanche tanto il moments e non costano neanche più tantissimo a partire dalla sua versione mid la prime la baby rimane sempre quella sorta di mito che io vi dico sempre non è che alla fine cambia chi sa quanto dalla baby e la mid quindi tra quella che costa di più ma è quella inferiore andate a prendere la mid che costa meno e bene o male stiamo là quindi il panterone lo devo inserire questo perché ovviamente il panterone apre diciamo il campo a tutti i giocatori simile ausebio e come vi ho parlato nella sua review apposita di bala è uno di questi e mi ha colpito tantissimo 4 5 anche per lui quindi destro sinistro che si sente benissimo perché finalizza col destro come se fosse il sinistro speed boost della madonna super agile fa praticamente quello che vuole palla al piede dentro l'area disorienta gli avversari con i micro movimenti che è una bellezza 97 di agilità 85 di reattività 95 di dribbling di bala è un altro giocatore che per me deve stare tra questi 10 attaccanti e in serie a mancava ancora quest'anno un giocatore così agile perché era uscito murel erano usciti altri giocatori ma non soddisfavano mai fino alla fine sotto questo profilo altro giocatore ovviamente simile eusebio chiese non bei jeder bei jeder 4 di skill 5 di piede debole anche per lui resiste imperterrito ogni anno tra i migliori attaccanti del gioco lo devi mettere anche perché quando c'è da segnare segna si speed boosta bene un demonio palla al piede c'ha un'ottima ibridabilità quindi anche bei jeder non può mancare è nulla raga per questa top 10 per questi sono i migliori 10 attaccanti attualmente secondo me su fifa 22 fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate in descrizione vi ricordo tutti i link alla piattaforma viola dove sono live ogni giorno a me non resta altro che salutarvi augurarvi una buona giornata un saluto nei riberoschi ciao